Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nuvole di bellezza. Oggi parleremo di prodotti top, flop, alcune scoperte, prodotti che sto utilizzando da poco ma che mi stanno particolarmente piacendo e quindi direi di iniziare subito. Sulle labbra vi sto girando un po' di video e sto provando questi rossetti di Faberlic per la prima volta nel video che vi ho girato prima avevo il numero 401 08 che purtroppo non mi è piaciuto per niente perché andava nelle pieghe, non so se si è visto anche nel video ma infatti questo rossetto l'ho visto subito appena aperto nell'unboxing che abbiamo fatto di prodotti nell'all, ho visto subito che andava nelle pieghette. Adesso oggi ho il 407 87 della linea Glam Shine. Questo qua, eccolo. Questo devo dire che mi piace di più, ora non so come rende in camera però è più morbido, più luminoso e va meno nelle pieghette, almeno per ora poi magari fra 5 minuti me lo vedrete stampato sui denti. Comunque intanto che faccio il video li provo e vi do le prime impressioni. Allora partiamo subito e partiamo con un prodotto assolutamente promosso che mi sta piacendo tantissimo, tra l'altro un prodotto low cost e si tratta di Natura Siberica, questa nuova linea, questa è la linea Anti Ox Blueberry quindi realizzata a base di mirtilli, una linea che mi sta piacendo tantissimo insieme a tutti gli altri prodotti, sia di questa linea, questa linea dal pack viola sia quella Siberica che è quella con vitamina C o livello spinoso poi c'è anche la versione quella White Polar Birch che è quella con la betula bianca sono prodotti che potete trovare su nuvole blu non da molto tempo e anch'io li sto provando che non è tanto tempo ma mi stanno piacendo tantissimo poi se volete nel dettaglio posso anche girarvi un video in merito ma oggi nel dettaglio volevo parlarvi di questo questo è il detergente, il detergente antiossidante è realizzato a base di mirtilli mi sta piacendo tantissimo allora si tratta di un detergente da 100 ml partiamo dalla texture che è una texture particolarissima e che rende il prodotto veramente molto molto piacevole allora io non so se dalla camera si potrà, si riesce a rendere l'idea comunque è questo gel che è una via di mezzo fra quei gel coreani perché vedete ha questa, tanto per capirci ha questa texture perlescente però allo stesso tempo è anche una texture molto più cremosa rispetto ai detergenti coreani che sono comunque più concentrati questo è più spumoso è come una mousse, guardate la meraviglia quando lo massaggiate è come una mousse aerata infatti se io vado a vedere il prodotto vedo queste bollicine come se fosse una mousse a contatto con la pelle si trasforma in una crema è una crema che ha in sé anche un potere leggermente sfogliante ma micro, veramente perché all'interno della texture ci sono proprio delle micro micro particelle e sfoglianti ma sono molto molto poche infatti questo è un detergente che può essere utilizzato anche tutti i giorni perché non è un gel peeling ma è una crema detergente che all'interno qua e là ogni tanto sono veramente pochi però qua e là ha queste particelle micro sfoglianti che però vi dico sono delicatissime sono praticamente impercettibili e mi piace tantissimo voi andate a massaggiare questo prodotto soprattutto di mattina fa questa schiuma infinita perché questo è uno di quei prodotti che più lo massaggiate più lo emulsionate con acqua e più la schiuma è come se si rigenerasse e vi deterge perfettamente la pelle ha una bellissima azione illuminante è un prodotto ricco di vitamine però allo stesso tempo non va a seccare la pelle assolutamente e vi ricordo che io ho una pelle secca questo è un trattamento anche emolliente infatti troviamo all'interno anche la lantoina ha questa azione idratante e rimpolpante grazie alla presenza anche dell'acido ialuronico e poi abbiamo questa infusione di bacche sapete che Natura Siberica utilizza proprio anche le bacche nordiche delle erbe tipiche della steppa siberiana utilizzano molto anche l'olio di pino è un brand veramente tutto da scoprire su Nuvole Blu adesso trovate diversi prodotti sia di queste nuove linee che delle altre linee di Natura Siberica tra l'altro è un brand che comprende tantissimi altri marchi e è una casa cosmetica tutta da scoprire cioè loro veramente vanno a raccogliere manualmente queste bacche queste coltivazioni, i fiori, gli estratti di erbe le fanno essiccare c'è una lavorazione dietro veramente incredibile utilizzano anche ad esempio gli estratti di pinoli comunque non mi dilungo ma è tutta la loro produzione è veramente affascinante da conoscere è un qualcosa di molto molto bello e interessante e qui appunto troviamo questi estratti di mirtilli che sono ovviamente mirtilli nordici e oltre che estratti di salvia quindi per una leggera azione purificante però vi dico non è un prodotto assolutamente che va a seccare la pelle troviamo l'olivello spinoso che praticamente troviamo con quasi tutti i prodotti di natura siberica è proprio il tipico ingrediente che hanno il sambuco nero questa volta i fiori i fiori di sambuco e acido ialuronico insomma oltre che lampone artico che deve essere il kamemoro che è un lampone particolarmente ricco di vitamina C prodotto eccellente tra l'altro questi sono tutti prodotti che possiamo definire low cost ha una texture comunque ricca che per 100 ml è un prodotto che vi durerà comunque diverso tempo è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo poi non parliamo della profumazione la profumazione è meravigliosa so proprio di bacche, di mirtilli di frutti di bosco di bacche di bacche proprio mi piace tantissimo e vi dico mi piace molto come lascia la pelle perché la lascia levigata morbida luminosa io vi dico è una adesso sembra incredibile però io questo effetto lo vedo anche da così e nonostante cioè alla fine non abbia nemmeno cioè non ho né sciacquato la mano né niente ho solo tolto così il prodotto però la mano è morbidissima ho una pelle levigata e cioè io non so dalla telecamera non renderà mai però io noto la noto la differenza e da lì non si vedrà mai però una pelle ultra liscia levigata un detergente incredibile vi dico è un detergente che può stare al fianco di tantissimi altri detergenti con costi molto più elevati è un prodotto che secondo me vi conquisterà fin dal primo istante poi ha questa texture vi dico così particolare morbida soffice è soffice è una texture quasi aerata è una texture quasi ossigenante è un trattamento da tutto da scoprire lo definirei anche aromaterapico perché ha questa profumazione fruttata di bacche frutti di bosco che mi piace veramente tanto e questi sentori si sprigionano durante la la detersione è un prodotto che vi dico mi è mi è piaciuto tantissimo infatti è il primo che vi presento di questa linea anche se i prodotti interessanti sono veramente tanti sono veramente tanti e non finirei più di parlarvene solo che purtroppo il tempo è sempre limitato comunque se vi interessa vi potrò proporre anche altri video in merito poi andando avanti vi faccio vedere una essence che mi sta piacendo tantissimo è un prodotto che non sto utilizzando da tanto quindi questa è una scoperta però è un prodotto che avevo già provato mi sembra non so se in campione o delle mini taglie comunque sto parlando di SVR e questa è la loro essence un essence vedete è fluida però ha una consistenza leggermente quasi viscosa no assomiglia un po' al tonico quello all'acido ialuronico di L'Oreal perché comunque in questo prodotto si sente tantissimo la presenza dell'acido ialuronico è un prodotto estremamente idratante proprio idratante e reidratante e va proprio a rimpolpare la pelle la lascia compatta come più soda ma allo stesso tempo anche luminosa è un prodotto buonissimo mi piace tantissimo ed è un prodotto che sicuramente potrei paragonare anche se sapete non mi piace fare il paragone fra prodotti perché comunque ogni prodotto è un mondo a sé però volendolo fare e anche per darvi un'idea in più per chi non l'ha provato è un prodotto che potrei diciamo paragonare all'essence di Uriage anche se quella lì forse mi è piaciuta un po' di più più che altro per la profumazione quella ha una profumazione indescrivibile meravigliosa che mi piace tantissimo questo prodotto non ha profumazione quindi da un certo punto di vista è anche meglio perché se state cercando un essence tipo quella di Uriage però non amati profumi oppure avete una pelle molto molto sensibile allora questa sicuramente che è specifica anche per pelli sensibili come comunque anche quella di Uriage sono tutti prodotti molto calmanti e lenitivi questa però non ha la profumazione quindi se la cosa vi può interessare è un qualcosa da tenere presente è comunque un essence ecco vedete vedete che non è liquida ma questa consistenza sembra quasi un siero leggermente viscosa ne bastano poche gocce poche poche gocce perché è comunque un prodotto concentrato ed è un'essenza che vi va proprio a rimpolpare la pelle immediatamente e va come a sollevare la pelle è un qualcosa di incredibile è un trattamento molto rinfrescante rimpolpante non appiccica la pelle ne va comunque utilizzato poco e vi ristora la pelle è proprio un trattamento come un booster è come un booster che va a dare quel qualcosa in più un'idratazione in più questo contiene acido ialluronico più il 2% di vitamina B3 quindi è veramente un concentrato assolutamente ottimale per la pelle e infatti poi nell'inci appunto troviamo la vitamina C e scusate la niacinamide cioè la vitamina B3 con la presenza dell'acido ialluronico troviamo anche la vitamina C comunque il sodio lattato comunque un trattamento eccellente mi piace tantissimo sono 150 ml e adesso non mi ricordo forse quella di Uriage è 100 100 ml forse sì comunque questo forse ancora più concentrato è molto molto attivo poi contiene questa quest'acqua termale che comunque va a calmare e a lenire la pelle quindi oltre all'azione rimpolpante abbiamo anche comunque quest'azione calmante dedicata anche alle pelli sensibili è un prodotto ottimo assolutamente da provare mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto fin dal primo utilizzo un prodotto che invece purtroppo non mi è piaciuto per niente sono queste maschere di Sephora avevo preso questo pacchetto vedete sono delle maschere da utilizzare tutti i giorni e sono 14 maschere giustamente comunque questo genere di maschere cioè me lo aspetto che non abbiano un tessuto cioè chissà quale tessuto perché comunque per 14 maschere il prezzo non è non è elevato però purtroppo cioè sì che sono da tenere un minuto però in effetti più di un minuto queste maschere non potete tenerle perché perché voi le applicate però hanno questo tessuto che si stacca si stacca e quindi cioè dovete sempre comunque rimetterlo a posto quindi non è un trattamento che trovo pratico e non ho neanche visto particolari benefici ecco è un prodotto che purtroppo non andrei a riacquistare e l'unica cosa bella è la profumazione perché sanno proprio di latte e di mandorla sapete è un aroma che a me piace tantissimo e queste sono le maschere le tirate fuori una per una il tessuto non è male però forse hanno poco prodotto non saprei cioè hanno poco poco siero forse potrei aggiungere nella confezione direttamente all'interno qualche goccia di siero o magari mi sta venendo in mente qualche goccia di essenza per rivitalizzarlo un po' perché effettivamente non c'è tanto siero all'interno quindi abbiamo già questo tessuto che si stacca la presenza di poco siero quindi la maschera non aderisce quindi magari potrei aggiungerci qualche all'interno qualcosa per renderle un po' più umide e magari per avere un effetto migliore comunque la formula è arricchita con allantoina per un'azione sempre emolliente gli esteri di jojoba estratti di mandorle estratti di funghi oltre che vitamina c non sono male però ecco dovrebbero avere anche un'azione nutriente però nutriente come anche calmante levigante purtroppo non mi sono piaciute ecco è abbastanza difficile che io mi trovi male con dei prodotti però ogni tanto capita e sapete che comunque cerco sempre di trovare il lato positivo anche nei prodotti però ci sono dei trattamenti che come ad esempio tutto quel trattamento di quel brand Skin First mi sembra quei prodotti lì di nuovo non mi sono piaciuti tutto il trattamento adesso lo sta provando un'altra persona però si con determinati trattamenti che sono pochi perché vedete alla fine i prodotti mi piacciono sempre tutti per un motivo o per l'altro mi piacciono però alcuni prodotti proprio non li consiglio queste non mi sento di consigliarle anche se sicuramente un trattamento comodo e anche carino perché avete tutte le maschere uno al giorno ve le fate però secondo me sono poco attive però vi dico mi è venuta in mente questa cosa in questo momento e potrei provare a inserire direttamente all'interno un po' di essenza magari anche un po' di tonico senza sprecare l'essenza magari un po' di tonico un po' di qualcosa che le renda magari un po' più imbevute di prodotto e quindi più anche confortevoli all'utilizzo poi andando avanti vi faccio vedere di Matarrania questo contorno occhi 100% bio questo è un vero e proprio burro è un vasetto da 30 ml quindi insomma è già un burro quindi ne basta poco poi sono 30 ml lo finirò il giorno di mai più però devo dire che questi trattamenti burrosi li applico anche su collo e decolletè quindi non sempre però perché comunque vado già ad applicare anche altri prodotti però ecco questo sì non mi è dispiaciuto però vi dico rispetto ad altri burri che magari hanno un costo inferiore questo comunque ha già un suo costo e alla fine il risultato ecco non è poi diverso da prodotti che comunque costano meno allora volevo guardare perché ho la scatola da qualche parte ecco ho tenuto anche la scatola così vi riesco a dire gli inci allora se tratta di un prodotto vegano 100% naturale questo contiene burro di karité olio di oliva olio di mandorle dolci olio di sesamo olio di jojoba fiori di calendula estratti di cotone lavanda non conosco questa pianta e olio di rosa moscheta quindi sicuramente non è male perché ha questo mix di oli e di estratti che lo rendono con un contrattamento molto molto elasticizzante però ora non mi ricordo il prezzo però mi sembra che comunque sia un prodotto che non è che costi proprio poco e quindi avevo trovato comunque in commercio dei burri che sono altrettanto validi però che costano anche meno ad esempio i burri di zoio agosprit non hanno nulla a che invidiare a questo a questo burro perché sì che questo magari contiene più ingredienti però alla fine il risultato sulla pelle è comunque quello questi prodotti li uso come come contorno occhi come impacco anche come maschera serale nella zona del contorno occhi e mi vanno ad elasticizzare tantissimo la pelle e magari sopra addirittura vado ad applicare anche un olio poi tengo questo impacco tutta la sera e al mattino comunque mi sveglio con un contorno occhi più fresco più riposato più levigato e soprattutto la pelle è comunque morbida ed avendo una pelle secca questi burri comunque sono una manna dal cielo anche miscelati agli oli infatti burro ed olio comunque nel burro ci sono già gli oli però io amo queste texture corpose le applicerei sempre io mi ungerei veramente sempre da mattina a sera e mi piace mi piace ungermi di prodotto e ungere anche tutto al cuscino tra l'altro sto utilizzando quelle federe di seta e quindi non vi dico però è così però vi dico le federe di seta comunque adesso andiamo fuori tema però le federe di seta ve le consiglio assolutamente perché vi dico io mi svegliavo al mattino che veramente avevo una faccia tutta piegata piena di linee anche sul decoltello è proprio tutta stropicciata come un panno stropicciato e invece con quelle federe lì noto che la pelle è più distesa e quindi secondo me sono un ottimo rimedio anti age anche preventivo quindi tenetelo in considerazione sono federe che non costano poco perché comunque sono realizzate in seta alcune sono realizzate in rame o in altri tessuti particolari sono ottime io mi sto trovando veramente bene e ho risolto il problema di svegliarmi al mattino con le pieghe del lenzuolo stampate in faccia quindi tra l'altro quelle lì sono ottime anche per i capelli perché non increspano i capelli comunque chiusa la parentesi è sicuramente un ottimo prodotto però vi dico non so se andrei a ricomprarlo perché ci sono in commercio anche prodotti che sono simili però hanno un costo molto inferiore ad esempio anche solo applicare il burro di albicocca che ad esempio lo fa Terre di Gianas credo comunque cercate online burro di albicocca magari vi lascio i link lo trovate anche su Amazon quello è un burro molto morbido emolliente levigante illuminante è ottimo per il contorno occhi ed ha comunque un prezzo più basso rispetto a questo ad ogni modo se volete quel trattamento in più un po' più lussuoso un po' più ricco di ingredienti questo sicuramente è ottimo ovviamente non ve lo consiglio se non amate le texture oleose perché questo ovviamente è un burro ha una texture molto corposa e a contatto con la pelle praticamente si trasforma in un olio però vi lascia la pelle morbidissima mi piace tanto la profumazione è quella classica dei burri ecco non ha particolari profumazioni sa proprio di oli vegetali di burri vegetali comunque sa anche di karité ottimo prodotto ecco comunque sicuramente è un prodotto promosso perché fa assolutamente quello che promette poi sono 30 ml per un contorno occhi è sicuramente un ottimo quantitativo poi facciamo un passo indietro nella skin care e torniamo allo scrub sto utilizzando con piacere questo scrub al kiwi di questo brand fito cosmetic è un brand se non erro polacco e allora vediamo un attimo federazione russa mi sembra però è scritto tutto che non non capisco comunque si tratta di uno scrub alla vitamina c realizzato anche con estratti di kiwi e questi semi di kiwi che vanno a fare questa questa esfoliazione si tratta di uno scrub piuttosto intensivo infatti non mi sento di consigliarvelo se avete la pelle piuttosto delicata perché si che visto così sembrava cioè visto così sembra uno scrub in crema molto più delicato no a questa consistenza quasi un po perlescente e all'interno non troviamo tanti granuli non so se potete notare non ce ne sono tanti però quei pochi che ci sono sono molto molto sfoglianti quindi sicuramente è uno scrub che comunque mi sta piacendo però non lo utilizzo spesso lo posso usare ad esempio una volta alla settimana e poi magari gli altri giorni faccio altri scrub più parte che non è che sfoglio tutti i giorni però lo alterno con degli sfoglianti più delicati perché almeno sulla mia tipologia di pelle che comunque non ho una pelle sensibile però questo è uno scrub molto molto presente e ha questi granuli che sono pochi all'interno della pasta però sono molto presenti si fanno sentire molto nella pelle quindi assolutamente non ve lo consiglio se ad esempio siete in un periodo in cui avete la pelle molto delicata e reattiva perché effettivamente è comunque molto molto consistente la profumazione è comunque buona fruttata ora non è che ci sento il kiwi in particolare che tra l'altro non mi piace comunque io ci sento una profumazione semplicemente fruttata come ingredienti andiamo a vedere allora a parte che è scritto tutto in cirillico comunque contiene estratti di kiwi al secondo posto poi estratti di papaya infatti questo fa anche fa un'azione sia esfoliante chimica che cioè un'esfoliazione sia meccanica che chimica quindi enzimatica grazie agli estratti della papaya poi troviamo anche il burro di karité quindi per un'azione emolliente nutriente olio di nocciola di albicocca polvere di kiwi credo che sono appunto la parte sfogliante poi troviamo il tè verde estratti di rhodiola papaina che è appunto un esfoliante enzimatico pensate che addirittura contiene il coenzimo Q10 l'ubiquinone vitamina E e poi troviamo una serie di altri come posso dire esfolianti enzimatici sono acidi esfolianti come l'acido malico l'acido tartarico l'acido glicolico e via dicendo che uniti comunque alla papaina regalano a questo scrub anche un'azione esfoliante levigante illuminante però più chimica enzimatica comunque mi piace un prodotto che mi piace perché leviga bene la pelle la lascia soprattutto più luminosa e magari ecco io faccio uno strato un pochino più consistente e non vado troppo a sfregare perché questo tipo di esfoliazione a me personalmente dà un po' fastidio preferisco magari dei granuli che siano più di zucchero che poi magari si vanno un po' sciogliere durante l'esfoliazione e trovo che sia appunto un'esfoliazione scusate la ripetizione della parola più dolce questa comunque è consistente sembra quasi che vada un po' a graffiare la pelle comunque io massaggio poco e poi lascio in posa lasciando in posa comunque è uno scrub che ha anche la parte enzimatica e quindi vi va comunque ad esfoliare la pelle la rende più luminosa e più levigata mi sta piacendo mi sta piacendo e nonostante appunto questi granuli piuttosto insomma invasivi almeno sulla mia tipologia di pelle però ecco un comprodotto che mi sta piacendo mi sta piacendo per l'effetto perché comunque mi lascia la pelle più luminosa e levigata mi piace per la profumazione perché comunque è un profumo piacevole fruttato e mi piace anche questa consistenza in pasta un po' morbida sapete che io amo le consistenze cremose quindi sicuramente rispetto a un peeling in gel preferisco questo anche se vi dico questa parte sfogliante è molto molto consistente anche se i granuli non sono non sono tanti però sono pochi però si fanno sentire comunque sicuramente un ottimo prodotto non lo consiglio ecco ha le pelli molto molto delicate poi andando avanti vabbè questo non mi dilungo perché avevano già parlato all'infinito sto riutilizzando di nuovo questo tonico di teologi questo per me è il tonico della vita veramente un prodotto così io non ho trovato altri prodotti simili mi piace tantissimo questo è un tonico essence quindi è un tonico che fa un po' tutto aiuta a levigare la pelle illumina compatta idrata però allo stesso tempo vi lascia la pelle come cioè più compatta non dico ad effetto lifting però sentite che la pelle è più compatta anche se comunque idratata vellutata morbida un prodotto eccellente questo l'avevo già finito credo un anno fa ne avevo un altro nelle scorte l'ho riutilizzato ho voluto riutilizzarlo anche per la profumazione perché questa profumazione è un qualcosa di spettacolare celestiale meravigliosa è una profumazione che mi piace tantissimo e soprattutto è una profumazione persistente quando utilizzo questo io sento il profumo di questo tonico anche dopo anche dopo aver applicato la crema e anche durante il giorno è una cosa molto particolare che sicuramente a tutti non può piacere però a me piace tantissimo e quando sento questa ventata di profumo mi piace tantissimo perché durante il giorno io vado proprio a risentire questo profumo anche se voglio dire proprio il profumo profumo adesso volevo vedere qui nella formula però sinceramente manco lo vedo comunque guardiamo un attimo allora contiene l'acqua di rose che è l'ingrediente principale poi troviamo le foglie di tè verde perché tutti questi prodotti teologi hanno questa infusione di foglie di tè acido ialuronico caramello addirittura e poi troviamo una serie di estratti fermentati estratti di saccaromiceti saccaromiceti del rame del magnesio dello zinco e un'altra infusione di tè uno speciale complesso fermentato filtrato e un'infusione di tè quindi addirittura questo profumo nemmeno lo contiene dice no parabeni no paraffine oli minerali sls sls coloranti sintetici formaldeide e siliconi io il profumo non lo vedo e però questo profuma è proprio questa infusione di rosa misto a tè io non amo particolarmente il profumo di rosa mi piace però non è uno dei miei profumi preferiti questo è un mix di rosa col tè è buonissimo mi piace tantissimo poi a me il profumo di tè piace tantissimo vi ho girato anche il video sulla nuova linea di l'elborario foglie di tè buonissima e questo è buonissimo è un'infusione speciale e vi dico l'avevo nelle scorte lo sto riutilizzando con piacere anche se lo sto centellinando io tonico ne utilizzo come se non ci fosse un domani ma questo veramente non ne utilizzo tanto perché mi spiace sempre poi quando lo finisco ora nelle scorte non ne ho più ma sicuramente andrò a riacquistarne un altro da tenere nelle scorte perché è un tonico eccezionale illumina la pelle idrata rende la pelle compatta luminosa fa tutto lo utilizzo di mattina e proprio mi illumina mi ricompatta la pelle lo utilizzo di sera mi aiuta a rigenerare la pelle ha questa azione rimpolpante secondo me proprio anche anti age vede l'infusione di questo tè nero misto a rosa misto ad acido ialuronico eccellente un prodotto favoloso ve lo consiglio assolutamente poi mi saprete dire la profumazione se vi piace poi per carità non potrà piacere a tutti ovviamente però se amate le profumazioni persistenti ma questo non è che sia un profumo così invadente no perché è delicato però allo stesso tempo si fa sentire è un ottimo profumo ottimo comunque a me i prodotti teologi piacciono tantissimo lo sapete ve ne parlo sempre da quando ho aperto il canale qui su youtube che parlo di questi prodotti perché sono per me sono un'eccellenza mi piacciono tantissimo e soprattutto probabilmente le loro formule sono molto congeniali al mio tipo di pelle perché poi alla fine fondamentalmente il discorso è quello trovare un brand con il quale la tua pelle va d'accordo con questi prodotti la mia pelle va tantissimo d'accordo e devo dire che mi piacciono l'unica cosa loro fanno anche il profumo che viene denominato rose tea mi sembra fanno due profumi uno più agrumato e uno più profumo alla rosa infatti l'avevo dopo aver acquistato questo tonico ero subito andata a comprare il profumo perché ho detto avrà il profumo del tonico e mi profumo con questo aroma inebriante che amo tantissimo però vi dico che il profumo di questa linea proprio la boccetta di profumo che è anche bella grande tipo un'acqua profumata ha un aroma diverso molto diverso rispetto al tonico almeno la variante che ho provato io che è quella alla rosa non so se poi ne avranno fatte altre mi piacerebbe davvero tantissimo che il brand facesse il profumo di questo tonico perché è un qualcosa di celestiale celestiale sa un po' di rosa di tè di pulito è un aroma celestiale mi piace tantissimo lo so che tutte le volte decanto questo tonico come fosse una manna dal cielo però a me piace veramente tanto quando incontro dei prodotti che mi piacciono così tanto non riesco a contenermi poi andando avanti ecco volevo farvi vedere una crema una crema viso che sto utilizzando in una taglia deluxe è questa di Shiseido questa è la vital perfection uplifting and firming cream che crema ragazzi una crema meravigliosa questa è una crema di nuovo da acquistare in full size allora questo è il barattolino tra l'altro bellissimo ha una consistenza che sembra quasi una crema sorbetto è tipo una crema gel però vi da subito dopo l'applicazione vi da sulla pelle una sensazione proprio di pelle più soda è una sensazione immediata ed è una sensazione particolare proprio quando andate a stendere il prodotto anche la texture vi da quell'effetto di pelle rassodata mi piace tantissimo è una crema amabili amabile si assorbe velocemente è abbastanza comunque nutriente ma non troppo è sicuramente un trattamento indicato per una pelle sicuramente agé non consiglierei questa crema a una ragazza giovane anche se poi è tutto relativo comunque questa è proprio una crema lifting effetto firming quindi rassodante anche illuminante è già una crema di un certo livello visto anche il costo della full size mi piace tantissimo perché vi dico mi nutra la pelle cioè comunque non me la lascia secca idrata ma soprattutto va a ricompattare la pelle la rende più tonica più soda lo stesso tempo luminosa anche se ne applico un po' di più questa non fa mai pallini ha una qualità eccellente della texture come della formulazione ma sappiamo che i prodotti Shiseido sono prodotti giapponesi la skin care giapponese comunque è ad un livello molto molto superiore senza nulla togliere la skin care occidentale ma i trattamenti giapponesi sono fanno dei trattamenti incredibili la profumazione celestiale molto buona avvolgente presente la sentite presente è una profumazione un po' fresca però poi comunque svanisce tende a svanire mentre ad esempio il tonico questo continuate a sentirlo gradevole un aroma non troppo forte ma che si sente e che dire questa è una crema che veramente potrei acquistare in full size perché mi piace tantissimo questa è la linea è una linea sicuramente rassodante indicata per le pelli mature un trattamento veramente è buonissimo questa crema sono quei campioni che quando li provate rimanete colpiti che poi campione comunque 15 ml di crema ce n'è in abbondanza e comunque questi trattamenti sono arricchiti con tutti questi complessi che ha Shiseido queste tecnologie ad esempio qui abbiamo la Reneura Technology questa tecnologia comunque che va a risollevare i tratti con un'azione liftante rassodante è un ottimo prodotto e poi troviamo anche ingredienti come l'acqua di rose o ad esempio l'olio di lavanda la vitamina E ed altri estratti diversi estratti di fiori di cartamo rosmarino e via dicendo comunque al di là dell'inci è una crema eccezionale mi piace tantissimo e vi dico sicuramente potrei acquistare la full size poi andiamo avanti e parliamo vediamo un attimo non mi ricordo se questa ve l'ho fatta vedere prima perché sto girando il video in due tempi ma penso di no ed è un'altra crema viso questa la utilizzo principalmente di sera di Doctor's Formula questa di nuovo è una crema di un certo livello a un certo costo è una crema che avevo acquistato su un sito estero che adesso non mi ricordo e mi aveva colpito perché è un trattamento notturno al collagene marino una crema meravigliosa anche questa è una crema che vi va a parte che durante la notte vi va proprio a rigenerare la pelle al mattino avete questa pelle più compatta più fresca e anche luminosa ma poi è un trattamento proprio rassodante anche questo sentite la pelle come rimpolpata è un trattamento eccellente ma vi dico questi trattamenti con il collagene marino sono veramente ottimi di questa crema vedete che comunque è già ampiamente utilizzata anche se questa la sto centelinando perché appunto è di nuovo un trattamento che non è che uno va a comprare tutti i giorni però ha una texture sembra quasi è una mousse aerata io non so se potete notare però è proprio una mousse è una mousse infatti dentro abbiamo quasi delle bollicine ogni tanto sparse qua e là non so se si può vedere perché è una texture proprio aerata sembra una texture ossigenata non so come come dirvi comunque è una texture molto piacevole fresca che va ad idratare la pelle però allo stesso tempo non è pesante e però allo stesso tempo va a rimpolpare e va come a rigenerare la pelle è una texture meravigliosa e poi un altro pregio di questo trattamento è di nuovo il profumo sapete che per me comunque la profumazione è di nuovo un fattore importante nella skin care perché la skin care è piacevolezza è un momento di spa fatto in casa almeno io la interpreto così e questa mi piace tantissimo è una profumazione tipo che sa di pesca io non so come mai ma ci sento la pesca è proprio una pesca fresca una profumazione molto molto buona è fruttata vi dico io ci sento proprio la pesca un aroma fresco molto molto buono e mi piace questa è una crema di nuovo eccezionale ha questa texture particolare e mi piace l'effetto è un trattamento arricchito appunto con collagene collagene marino poi troviamo anche l'acido ialuronico e va proprio a rigenerare e proprio a ricompattare la pelle questa è proprio un'azione rassodante e levigante secondo me l'unione di queste due è un'unione ottimale perché qui avete un trattamento rassodante giorno e qui un trattamento rassodante per la notte con una crema di altissimo livello e altissima qualità questo è un brand inglese e fa questi prodotti che vengono definiti cosmeceutici perché alla fine hanno queste formule così studiate usano particolari tecnologie e speciali complessi che uniscono la parte di skin care di cosmetico cosmetico di profumeria a un cosmetico più specifico di farmacia mi piace tantissimo e comunque sono per carità sono trattamenti che appunto non è che uno li va ad acquistare sempre però da prendere ogni tanto e da intervallare sicuramente a trattamenti meno costosi più low cost questo è eccellente perché vi regala dei risultati incredibili io vi dico ho una pelle secca e questo questo trattamento comunque mi va a nutrire la pelle idrata però senza appesantire lo consiglierai anche a una pelle mista ma comunque anche a una pelle grassa perché non è un trattamento corposo però lascia la pelle in un piacevole stato di comfort e al mattino comunque vi trovate con una pelle visibilmente più bella è un trattamento ottimo vi dico la profumazione celestiale la texture è amabile non fa i pallini perché comunque sono creme già di un certo livello è difficile che facciano i pallini poi per carità tutto può succedere però questa è un po' la mia esperienza con questo genere di prodotto prodotto eccellente è un brand anche questo eccellente tutto da scoprire poi andiamo avanti perché ho ancora diverse cose se no facciamo notte e passiamo al corpo allora come primo prodotto vi faccio vedere questo bio olio doccia mandorla di Intra Intra è un brand che devo dire mi piace abbastanza questo questo l'ho acquistato principalmente per la profumazione non tanto per il fatto di essere bio io comunque utilizzo di tutte di più però Intra è comunque un brand che mi piace e devo dire che questo mi piace parecchio è un olio doccia è praticamente comunque una sorta di olio gel non è proprio completamente oleoso però vedete che comunque ha la consistenza tipo di un olio anche se un olio un po' più gelificato deterge bene la pelle senza seccare ma adesso al di là di tutto perché per carità bagno doccia e cioè delicati comunque che detergono bene senza seccare ce ne sono tanti il suo plus è indubbiamente la profumazione se amate il profumo di latte di mandorle questo è buonissimo questo sa proprio di mandorla proprio di amaretto ecco questo sa proprio di amaretto e quindi mi piace un sacco piace un sacco quando fa la schiuma comunque vi avvolge questa schiuma morbida cremosa e questo aroma di mandorle incredibile fantastico l'unica cosa però che questo genere di prodotto un po' come tutti questi oli non è che vi profumano tutto il bagno non è ad esempio come utilizzare un bubble bath di Avon ad esempio quelli lì profumano anche tutta la casa però sono anche due tipologie di prodotti diversi questo è proprio indicato appunto per essere proprio applicato anche sulla pelle poi andate a detergere con una spugna mi piace ha un profumo meraviglioso e contiene ovviamente olio di mandorle anche gli estratti di mandorle ed altri ingredienti diciamo non particolarmente interessanti l'ingrediente interessante è l'olio di mandorle e l'estratto di mandorle quindi non è che sia chissà che prodotto ecco perché mi sembra che anche caloderma abbia un prodotto simile forse costa anche meno perché loro hanno la confezione grossa questa è da 250 ml forse caloderma lo fa da 500 comunque penso che alla fine il prodotto è lo stesso ovviamente qui avranno degli ingredienti un po' più sicuramente biologici un po' più selezionati comunque se vi piace l'aroma di latte di mandorle di mandorle amaretto questo è fantastico è un bagno doccia un olio doccia all'amaretto amo tantissimo poi vi faccio vedere degli scrub sto utilizzando di dushka questo scrub sweet dessert questo ha i lamponi questo è un prodotto molto particolare dushka da quanto ho capito fa tutti questi prodotti un po' artigianali e questa è una sorta di crema peeling che si presenta come un dessert a più strati vedete e poi all'interno abbiamo questi pezzetti che sinceramente non ho ancora capito cosa sono probabilmente sono pezzetti di sapone però non saprei come utilizzarli nel senso non è che si sciolgono dovrei magari provare a metterli nella vasca comunque io utilizzo il resto del prodotto è un prodotto che ha una consistenza molto particolare cioè guardate sembra proprio un sembra panna montata ecco guardate sembra panna montata ed è questo questo burro montato ma sofficissimo dove all'interno troviamo questi granelli sono granelli che fanno un buon peeling comunque un peeling delicato però presente è una buona esfoliazione assolutamente e poi questo burro questo burro montato soffice a contatto con la pelle si trasforma quasi in un olio un olio cremoso che vi va a detergere comunque la pelle però allo stesso tempo lo fa lasciandovi la pelle molto morbida quindi è un prodotto che comunque mi sta piacendo è uno scrub un po' particolare la profumazione si sa di lamponi un po' particolare anche quella questi prodotti non so se avete visto un po' il brand fa prodotti comunque particolari è difficile comunque da trovare altri prodotti simili io sinceramente non mi ricordo uno scrub uno scrub fatto così è una sorta di mousse peeling mi piace mi piace è un prodotto particolare anche da utilizzare e sono 250 ml e ad esempio come ingrediente abbiamo il burro di karité che è il primo ingrediente perché è proprio un burro montato anche se non ha quella parte untuosa è un burro più leggero però montato proprio aerato le mie descrizioni però poi troviamo l'olio di cocco e troviamo ovviamente mi prude la faccia ora è scritto tutto in polacco russo come al solito vitamina E diciamo che poi come stratti non è che troviamo chissà che cosa però più che altro è questa texture montata che sicuramente fa la sua figura e comunque questi scrub vanno via come il pane questi veramente non so poi alla fine se ne vale la spesa perché comunque sono cioè almeno io poi utilizzo tanto prodotto quindi vanno via velocemente però sono anche tarini da provare per provare qualcosa di un po' di diverso sempre parlando di scrub che vanno via come il pane sempre di questo brand Fitto Cosmetic è un brand russo anche questo abbiamo questo scrub lifting anticellulite ora ragazzi quando leggo queste cose però per carità comunque contiene caffeina quindi il suo effetto lo fa questa è una pasta scrub fa un'esfoliazione delicata però comunque si sente ed è uno scrub che fa anche una leggera schiuma mi è piaciuto molto la profumazione sa di caffè per un caffè più delicato è quasi un dolce al caffè piuttosto che proprio il caffè intenso che a me comunque piace tantissimo però se magari non vi piace tanto l'aroma del caffè questo si sa di caffè ma forse ha anche una nota un po' più dolce all'interno comunque mi piace molto solo che ovviamente parlando di quantità questo è 155 ml come scrub corpo ecco l'ho utilizzato una volta e lo utilizzerò ancora un'altra volta ed è finito però è un'idea carina anche se anche da portarsi ad esempio dietro durante i viaggi volete portarvi uno scrub e questi sono comodi e che dire ovviamente non ho visto l'effetto lifting però sicuramente il caffè ha comunque un effetto sulla pelle e lo potremmo vedere di più lasciando in posa il prodotto per più tempo io però l'ho utilizzato proprio come scrub vero e proprio quindi più di tanto comunque mi è piaciuto è uno scrub a base di zucchero poi troviamo l'olio di mandorle e dolci l'olio di vinaccioli polvere di caffè proteine del grano polvere di yogurt olio di caffè buono veramente buono sarebbe bello avere una bella confezione più grande poi prodotto differente invece questo che pensavo fosse uno scrub in realtà una sorta di sapone questo è molto particolare un sapone realizzato a base di miele e olivello spinoso ora lo apro ma con estrema attenzione è un sapone che fa le file anche se adesso qui non è che si può notare più di tanto però è un sapone molto particolare ora non vorrei metterci le mani dentro e questo ecco non andrei a ricomprarlo perché alla fine è un sapone gli hanno messo queste particelle dorate dentro e io si avrei potuto inserirlo nella vasca da bagno vuotarne un po' in realtà io l'ho preso l'ho prelevato dal barattolo e l'ho applicato sulla pelle umida e rimane un po' cioè ci vuole poi un po' a risciacquarlo e avrei dovuto forse andare a vedere sul sito le istruzioni di utilizzo però qui è scritto tutto in polacco io purtroppo non conosco questa lingua quindi non lo so però credo che sia più che altro un è un detergente ecco un detergente concentrato comunque se ne sapete di più fatemi sapere e però ecco questo cioè se questo qui comunque mi è piaciuto come scrub come prodotto potrei anche riacquistarlo eventualmente soprattutto se ci fosse la confezione grande perché quelle lì piccoline vi dico per me sono troppo piccole questo ecco potrei anche farne a meno non è che sia un prodotto così incredibile alla fine è un bagno schiuma magari più concentrato però niente di particolare poi passando alle creme corpo vi faccio vedere questa di di 100% pure questa questo è un burro è un burro al mangostano mi sta piacendo anche se questi prodotti a me durano niente questo è il burro è un burro comunque nutriente elasticizzante buonissima alla profumazione sa proprio di mango di mangostano e mi piace è un burro che rende la pelle elastica però allo stesso tempo non vi dico che non unge perché comunque è un burro però rispetto magari a un classico burro di karité questo è sicuramente questo ha più questa parte acquosa che si fa sentire quindi lascia la pelle elastica compatta senza ungere troppo andiamo a vedere un attimo gli ingredienti allora questo è un burro realizzato a base di burro di cacao olio di avocado burro di karité olio di argan olio di rosa canina aloe vera succo succo di aloe vera cera candelilla vitamina E estratti di acai resveratrolo tè verde mangostano troviamo delle bacche di macchi bacche di goji vinaccioli rosmarino origano timo caprifoglio insomma come è un ottimo prodotto è nutriente elasticizzante mi sta piacendo sono 96 grammi e comunque sono prodotti che hanno un certo costo cioè non è sicuramente un burro low cost anche se non è che costi chissà quanto però sono già burri che costano e io comunque utilizzando tanto prodotto comunque la crema corpo la utilizzo sempre quindi si che alterno i vari prodotti però secondo me questo mi finisce troppo in fretta e quindi magari preferirai altri altri prodotti anche se comunque da alternare con altre con altri trattamenti sicuramente ci sta comunque mi piace c'è anche in altre varianti c'è miele e mandorle credo ce ne sono diverse varianti le creme quelle in tubo quelle lì sono forse meno nutrienti e comunque di questa linea sono presenti in gamma anche gli scrub comunque non sono male sono prodotti molto buoni sicuramente da tenere in considerazione poi sto utilizzando come olio anticellulite sto utilizzando questa meraviglia di bottega di lunga vita sapete è un brand che amo e questo è il prodotto questo lo utilizzo in combinazione con il massaggiatore di GF Beauty infatti mi chiedevo se questo massaggiatore potesse essere utilizzato anche con un olio andando a vedere su Amazon che ci sono comunque le domande e le risposte dicono di sì può essere utilizzata anche con un olio questo è un olio arricchito con olio con oli essenziali ed ha un'azione proprio anche drenante ed è perfetta per il massaggio è comunque quasi un olio secco però vi rende la pelle estremamente elastica e morbida è un olio che mi sta piacendo tantissimo e non so se si vede in infusione queste particelle però ce le ho aggiunte io ho aggiunto all'interno un po' di sale di Epson perché dopo aver visto il video di Beauty Passion Simona la mia carissima amica Simona che seguo sempre con piacere il mio portafoglio si svuota come se non ci fosse un domani dopo aver visto i suoi video arrivo in ritardo perché questo prodotto lei l'ha fatto vedere diverso tempo fa però prima o poi arrivo anch'io e ho preso i sali di Epson ho preso questa mastellina da 6 kg e quindi oltre ad utilizzarli nella vasca li utilizzo anche dentro i cosmetici non so se faccio bene o male però ho letto che questi sali si possono utilizzare anche all'interno dei cosmetici io ho provato ad inserirli ad inserirli dentro quest'olio i sali non si sciolgono però comunque credo che rilascino vedete c'è il sedimento in fondo però credo comunque che rilascino qualcosa rilasciano nell'olio sicuramente qualcosa fanno comunque questi sono sali drenanti aiutano un po' ad asciugare i liquidi quindi insomma allora questo olio dice drena depur e dissolve i grassi ovviamente non è che vi fa un cioè non è un prodotto che vi fa come posso dire un intervento chirurgico però per essere un cosmetico fa funziona e funziona egregiamente e devo dirvi che io appunto lo utilizzo con questo dispositivo che è un dispositivo massaggiante che ha diverse funzioni ha l'elettrostimolazione al massaggio alla luce rossa al calore questo massaggiatore abbastanza completo e l'unione di questi due comunque mi sta piacendo anche perché utilizzando questi dispositivi non tutte le creme vanno bene io stavo utilizzando una crema di rilastil una crema anticellulite nel tubo verde quella solo che adesso non ce l'ho qui da farvi vedere non l'ho presa comunque stavo utilizzando quella però quella non va bene perché con questo poi fa tutti i pallini anche utilizzando poco prodotto il prodotto poi viene via fa tutti i pallini quindi niente questo ad esempio è ottimo con i gel di SBC l'ho già provato e sono perfetti non fanno i pallini però io mi trovo benissimo con l'olio perché comunque con poche gocce di olio questo è un olio comunque molto concentrato è riuscito a fare il massaggio completo mi sto trovando bene e comunque noto quando ho finito il massaggio noto comunque che la pelle è come se la pelle lavorasse perché sento non dico un formicolio però sento quasi come se il microcircolo fosse riattivato ora detta così sembra una cosa assurda però io sento l'effetto soprattutto utilizzando questo lo stesso effetto non lo sento se utilizzo solo questo quindi secondo me l'unione di questi due è veramente qualcosa di spettacolare comunque vi posso dire che questo olio anticellulite è veramente ottimo anticellulite ecco contro gli inestetismi della cellulite poi ha questo effetto drenante mi piace perché comunque aiuta quasi ad affinare la silhouette ma nel senso che non è che vi fa lifting o vi fa perdere 10 chili però vi aiuta a ricompattare la pelle rende la pelle più levigata e è una cosa particolare che nonostante comunque si tratti di un olio è oleoso ovviamente però è quasi un olio secco però è comunque molto elasticizzante e al mattino io mi sveglio e sento ancora la pelle morbida e comunque vi dico ho notato differenza fra utilizzare il prodotto singolo quindi solo l'olio e la differenza utilizzando il prodotto come un dispositivo come sempre questi dispositivi sono efficaci l'unica cosa che bisogna avere la costanza di farlo sempre e poi una volta finito il trattamento mantenere i risultati io vado a periodi nel senso che ci sono dei periodi che utilizzo dispositivi come se non ci fossero domani ad esempio adesso sto utilizzando questo poi ho questo per gli occhi lo uso abbastanza spesso è di talica questo è proprio per la zona del contorno occhi però lo utilizzo anche nel contorno labbra di nuovo un dispositivo massaggiante con le luci poi ho la maschera led ho diversi dispositivi ho anche il new face però adesso in quel momento in questo momento ho un po' abbandonato il trattamento comunque mi piace fare questi trattamenti con questi dispositivi devo però essere nel momento giusto perché non sempre ovviamente ho voglia di mettermi lì e fare il trattamento questo è un trattamento che faccio di sera e sto facendo un trattamento intensivo perché faccio due cicli per gamba due cicli per gamba questo fa già il suo ciclo fa quattro adesso vabbè non voglio dilungarmi vengono sempre dei video eterni comunque vi lascio qua il foglietto spero si veda e il prodotto praticamente fa tutto questo ciclo lo fa già da solo ha queste quattro funzioni voi lo accendete vi fa questo massaggio in quattro step e io questo massaggio lo ripeto due volte per gamba e devo dire che comunque mi sto trovando bene soprattutto in abbinamento a questo olio attivo che mi piace tantissimo la confezione ovviamente in vetro col contagocce la profumazione piacevole sentite un po' di oli essenziali ma non è un profumo troppo erbaceo è abbastanza forte però non è male c'è molto di peggio c'è molto di peggio quindi questo è abbastanza buono perché anche questo aroma è un po' fresco e mi piace poi ha questo mix di oli essenziali anche con questo speciale complesso che viene chiamato Redux e gli aiuta proprio a ricompattare la pelle renderla più liscia quindi questo è comunque un prodotto molto molto buono secondo me è anche un trattamento concentrato e ne bastano poche gocce sono 100 ml però ecco questo rispetto a un olio corpo come può essere un olio elasticizzante questo è molto molto più concentrato e comunque mi piace il fatto di avergli aggiunto questi questi sali poi magari non fanno niente però secondo me gli danno una sferzata in più e appunto parlando di sali vi dicevo ho preso questi sali di Epson che sono quelli che aveva preso Simona ho preso questi da 6 kg su Amazon i sali di Epson sono una fonte inesauribile di magnesio non è tanto che li sto utilizzando però non mi stanno dispiacendo per niente hanno proprio questa azione anche sgonfiante e quindi utilizzando cioè facendo un massaggio facendo il bagno con i sali magari facendo anche i bendaggi tra l'altro sono uscite le bende di Bottega Verde che sono eccezionali e quindi un po' tutto assieme qualcosa fa ora volevo farvi vedere la granulometria di questi sali spero si veda pesa un quintale perché vedete sono sali molto fini non è sale non è sale grosso è un sale molto molto fine e questo sale può anche essere aggiunto nei cosmetici si possono fare degli scrub anche delle maschere sia per il viso che per il corpo ma adesso non è tanto che li ho comunque sto sperimentando un po' i vari utilizzi e vi dico come prima impressione comunque sono molto soddisfatta dei risultati poi comunque ne riparleremo in seguito poi infine terminiamo terminiamo con due prodotti per capelli indovinate cosa vi faccio vedere due leave-in perché giustamente senza leave-in non posso vivere e loro ovviamente insieme a tutti gli altri non finiranno mai comunque sto provando questa meraviglia bifasica di Garnier Fructise questa è realizzata a base di olio di avocado è un leave-in come anche questo di Elvive è un leave-in nutriente però che non appesantisce i capelli io i capelli molto secchi trattati chimicamente però sono anche molto fini e quindi anche con i leave-in devo stare molto attenta comunque anche se ormai sono cioè sono abituata a solo le quantità da utilizzare e quindi non ho solitamente questo tipo di problema di capelli appesantiti comunque miscelata il prodotto viene fuori questo latte è un latte anche quasi districante va ad ammorbidire tantissimo i capelli e li rende anche più docili al pettine e secondo me ha proprio anche un'azione anticrespo è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo e ha una profumazione molto buona sa è una profumazione un po' fruttata però quasi vellutata sa io ci sento quasi anche un po' di banana comunque mi ricorda la maschera alla banana di Garnier Airfood che mi era piaciuta tantissimo e che dire un live in è ottimo questo probabilmente a parte che è scritto tutto in tedesco ma secondo me potrebbe essere indicato anche per i capelli spessi capelli ricci bisognosi proprio di idratazione e nutrimento se avete i propri capelli fini che però tendono ad appesantirsi questo magari potrebbe appesantire anche se comunque cioè ne utilizzate di meno utilizzandone poco questi non vanno ad appesantire io vi dico i capelli molto fini però avendoli così secchi ho bisogno di trattamenti nutrienti anche se vi dico ci sono dei live in che sono anche più pesanti di questo questo alla fine è un'acqua è un latte secondo me molto ben bilanciato comunque troviamo l'olio di oliva troviamo lo zucchero di canna gli estratti di tè verde olio di girasole estratti di rosmarino estratti di cocco olio di avocado limone burro di caritenia cinamide ha una formula veramente incredibile e mi piace mi piace e continuerò ad utilizzarlo con piacere questi live in io li applico sui capelli umidi prima dell'asciugatura questo è sicuramente un promosso come promosso è anche questo l'oreal el vive della linea dream long quindi dedicato ai capelli lunghi leggete il save perché è la linea straniera però è sempre el vive anche questo mi piace tantissimo non va ad appesantire le lunghezze questo di nuovo è una sorta di latte anche se non è bifasico è una sorta di latte anche se rimane impalpabile vediamo se riesco a farvi vedere vedete comunque ha una consistenza non si vede comunque ha una ecco forse vedete le gocce ha una consistenza sempre lattiginosa però non va ad appesantire non va ad appesantire i capelli però aiuta ad ammorbidire le lunghezze e aiuta anche a chiudere le squame dei capelli insomma è un altro trattamento che mi sta piacendo molto la profumazione è buonissima ed è la tipica profumazione della dream long di el vive una linea che mi piace tantissimo vi ho girato proprio un video dedicato alle maschere capelli el vive che vi lascio nelle schede e sono una più buona dell'altra con le maschere e questo è un trattamento arricchito con olio di girasole e poi troviamo le proteine idrolizzate del grano oltre che le proteine della soia e vediamo un attimo il pantenolo per avere questa azione anche emolliente e acido salicidico che comunque va a chiudere le squame va anche un po' a lisciare il capello mi è piaciuto mi è piaciuto e questo può essere utilizzato è un leave in ma si utilizza anche per andare cioè alla fine anche un termoprotettore ecco qui dice fino a 230 gradi io non è che vado ad utilizzare piastre perché ho i capelli già piastrati di mio e anzi cerco sempre di farli un po' più cioè voluminosi anche se sì magari le lunghezze però e poi stanno attaccati la testa cioè comunque vabbè comunque se usate la piastra e avete i capelli lunghi questo vi aiuta a proteggerli proteggere i capelli dal calore di fonne e appunto piastre e che dire ragazzi direi che abbiamo finito almeno per oggi e per ora questi erano un po' i miei top flop o scoperte del momento e come al solito ho fatto una selezione e niente io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo ciao ciao